Senza percepire niente. Grazie. Ora, solennemente daremo i riconoscimenti e nel frattempo le ragazze divideranno le sacchettine di biscotti. Noi un gioco facciamo pane, ma è sicuro pane, insomma, ci vuole magari che l'accompagneremo. Qui, con se ne vuole mangiare, non se ne mangia. Nessun tipo di coppia. E noi ve li diamo. Vi facciamo la bocca a cuci. Comunque, volevo chiamare qua a fianco a me tutti i qualificatori che ci sono qua in sala. Anche le fornarine. Anche le fornarine. Anche le fornarine, dai. No, ok. S'affronta. Dai. Eh, la signora qui. Dai. Luigi. Luigi, sua figlia, tu. Venite tutti qua. Luigi, siamo con la mia. Anche i miei pezzammi. Anche le forno pezzammi. Va bene. Scusate, non c'è problema. Ok. Siamo qua. Diamo il riconoscimento alle insegnanti. Prima di tutto alla dirigente scolastica. Prego, avvicinati. Applausi all'istituto comunitivo statale di classe di Monica Tana Matravani per la fattiva e rinnovata collaborazione. Grazie da parte di tutti. Vuole dire qualcosa? Beh, diciamo che è stato detto tanto. In particolare Luana, che è nel cuore di tutti i nostri bambini. Voglio sottolinearlo per la sua professionalità, ma soprattutto per il modo in cui riesce a gestire il coro nella sua parte di voci bianche. Penso di interpretare il pensiero di tutti i genitori, perché non è facile entrare nel cuore dei bambini. E se continuano a venire, vuol dire che Luana è davvero brava, quindi la ringraziamo. Luana ha proprio centrato il punto nodale di questa esperienza di quest'anno. Accompagnare Vincenzo ha fatto sicuramente la differenza. Quindi ringrazio voi per averci dato questa opportunità e Vincenzo per avermi fatto scoprire suoni, odori, confusione. Cioè lui sa benissimo quando c'è molta gente che ci dobbiamo stringere, cose alle quali noi magari non facciamo caso. È un esempio bellissimo per noi e mi auguro di poter continuare a vivere queste emozioni insieme a voi. Grazie di cuore. Grazie a voi. Penso anche a tutti i genitori. Volevo dire, siccome sto facendo il TFA, ho fatto proprio un esempio di inclusione, perché sarebbe stato troppo facile integrarlo semplicemente lì in mezzo, invece così ho incluso proprio Vincenzo. un applauso alla foto che ha fatta. Alessandro, guarda tu. Foto, vengi.